Sarà una Paganese che affronterà una squadra che ha assolutamente bisogno di far punti, una squadra che ha perso in maniera brutta a Benevento per quello che ho letto, ma sarà una Paganese che dovrà necessariamente fare i punti, soprattutto in vista di queste due trasferte. Quindi se noi volessimo puntare a qualcosa di più della salvezza dovremmo necessariamente cercare di fare il massimo, come questa squadra ha sempre cercato di fare. Innanzitutto spero che parta qualcuno per poter lavorare con un gruppo di giocatori ristretto, perché poi si andrebbe a fare confusione e si lavorerebbe male. Lo dico oggi, se non dovesse partire Romano, Orlando, Russo, diventeremo 24-25 lavori male durante la settimana, perché diventa difficile anche fare delle esercitazioni e soprattutto diventa difficile per loro, perché poi comunque devi fare delle scelte anche durante gli allenamenti, è la cosa più brutta. Insomma è chiaro a tutti che ho chiesto un altro centrocampista di qualità. Tutti i giocatori sono tutti, voglio dire, sul mercato, nel senso che qualora dovesse arrivare un'offerta importante, la società la prende in considerazione. Non penso che ci siano state offerte per i nostri calciatori, perché qualora ci fosse stata qualche offerta importante sarebbe venuto lo stesso giocatore a chiedere alla società di andare via, perché la società ha parlato in maniera molto chiara a tutti i propri tesserati. Quindi non penso ci siano state delle proposte, perché altrimenti la società me l'avrebbe detto. Chiaramente ho chiesto alla società, e penso che questo sia ben chiaro, un centrocampista di qualità e dinamico. Grazie a tutti i nostri calciatori.